Oltre 220 serramenti sostituiti che garantiranno un significativo risparmio energetico e maggiore sicurezza per i ragazzi. È l'intervento che ha interessato il Liceo Gioia di Piacenza. Il presidente della provincia Patrizia Barbieri e il consigliere delegato Sergio Bursi hanno effettuato un sopralluogo questa mattina ad accogliere la delegazione a un concerto dell'orchestra del liceo. A fare gli onori di casa il dirigente scolastico Mario Magnelli che ha espresso apprezzamento per l'intervento costato 700 mila euro. La cosa bella è che questa cosa si inserisce in un progetto importante che la scuola sta portando avanti di ottimizzazione dei consumi energetici degli edifici e una riduzione dell'impronta ambientale della scuola. Gli amministratori hanno annunciato che il Liceo Gioia, il Liceo Respighi e l'Istituto Colombini verranno interessati a breve da un progetto di adeguamento sismico. Entro l'anno verranno terminati i lavori per lo stesso motivo a Romagnosi. È stata l'occasione per i rappresentanti di istituto e alcune studentesse di presentare un progetto di plastic free. Diffonderemo nelle classi un rifiutologo, cioè un documento che potrà essere consultato e anche dei nuovi bidoni, metteremo a un oasi per piano, saranno dotati di un coperchio perché così stimoleremo una maggiore attenzione nei ragazzi. È un progetto che coinvolge tutta la scuola, non solo noi studenti ma anche il personale ATA e così come i docenti e analogamente abbiamo istituito due rappresentanti per ogni classe che siano rappresentanti dei rifiuti all'interno della loro classe. I ragazzi hanno anche realizzato una graphic novel dedicata al compositore di Castelvetro Giovanni Gagliardi. È un progetto del professor Marzaroli relativo a un progetto di musica di un musicista che ha vissuto a Castelvetro, quindi insomma nel piacentino ed è un approfondimento. Volevamo anche dare un acuto che è il giornale scolastico dove gli studenti scrivono, lo faremo avere al sindaco prima possibile.